Tassi, qual è la tua impressione in questa terza uscita ufficiale dell'Arezzo? L'impressione è buona, sicuramente è un carico di lavoro importante, però noi stiamo continuando a lavorare bene ogni giorno sugli ordini del mister, ci stiamo conoscendo pian piano sempre di più, e quindi questo fa bene sia per noi che ci impariamo a conoscere e per tutti. Ecco, presentati un po' ai tifosi che ancora non ti conoscono. Ma sono un giocatore che può giocare in tanti ruoli del centrocampo, sicuramente preferisco la fase di possesso che non, però negli ultimi anni in questo campionato specialmente mi sto applicando anche nella fase difensiva, quindi voglio solo far bene, aiutare i compagni e dar tutto. Hai accettato subito la corte dell'Arezzo senza pensarci due volte? Vabbè, non credo che sia una piazza che dovrei infatti desiderare, anzi è un onore essere qua, cercherò di dar tutto, soprattutto dopo tutto quello che hanno fatto l'anno scorso i ragazzi, un'impresa incredibile, speriamo di ripagare anche quest'anno. Bene, allora c'è un ottimo feeling, lo vediamo al di là dei risultati, ma insomma vediamo tra di voi un grande affettamento in questi primi giorni di ritiro. Sì, c'è un umore ottimo, si lavora molto duramente, però sempre con il sorriso. Qua c'è da ringraziare sia lo staff che i ragazzi più, tra virgolette, vecchi, che comunque ci hanno aiutato a ambientarsi benissimo e questo facilita le cose. Grazie.